Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti se siete nuovi o bentornati se siete vecchi sul mio canale Io sono Daniele Danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio di The Sims 4 Siamo nel gameplay diciamo principale, la nostra Simone si sta mangiando un gelato E devo dire ragazzi del vecchio episodio mi sono arrivati un po' di commenti su chi vorrebbe il flirt con Simone Chi non la vede con Simone, chi la vorrebbe con Evelyn addirittura E devo dire che per quanto mi manchino un po' le coppie lesbo che ho avuto in live, credo nella seconda stagione Devo dire che io con Evelyn non ce la vedo molto, quindi scrivetemi nei commenti Perché se non, cioè diciamo se ci sono più persone che le vedono insieme magari ci posso fare un pensiero C'è chi invece ha sentito la mancanza di Christopher, quindi devo dire che Simone è stata una protagonista molto amata Allora io la... paghiamo le bollette innanzitutto, non ci dimentichiamo perché qua mi sembra che sono tutti belli felici Che guadagnano eccetera eccetera, però poi ci sono delle bollette belle salate da pagare Allora col nostro Geremia andrei a mangiare dato che la... fanno sempre gelati ragazzi con questa macchina del gelato Il che mi piace ma non vorrei che ingrassassero come delle... non lo so Ecco vedete fanno solo gelato, loro mangerebbero gelato tutta la vita Allora ragazzi, oggi in realtà mi voglio dedicare un po' alle... diciamo alle loro aspirazioni Quindi voglio un attimo mettere da parte i loro lavori e voglio dedicarmi un po' alle loro aspirazioni Un attimo che bevo perché ho una secca Ok ho bevuto, molto velocemente in realtà E voglio dedicarmi alle loro aspirazioni Allora innanzitutto, lui è un animale da festa e si vuole presentare a dieci sim Quindi diciamo che questo mattoncino potremmo benissimo farlo tranquillamente Evelyn Lotario presentati a un nuovo sim in tre quartieri diversi Dai la chiave dell'appartamento a un amico e ordina tre volte ai chioschi del cibo Ok, ce la potremmo fare a farlo Poi lui ha in realtà allenati per un totale di otto ore, allenati in una palestra E quindi secondo me è quella un po' più fattibile E io direi magari con lui di... guardate c'è qui Simone, Rouge, adoro Io magari potrei andare con Lorenzo e Geremia in palestra così lui si presenta E lui invece magari... lei che fa, balla? Tutto a posto? Va bene Lei invece deve andare a due appuntamenti e si deve trovare un fidanzato Quindi io direi che potremmo fare un appuntamento con Christopher in realtà E poi potremmo chiedere a lui invece di diventare fidanzato Che carino Geremia che suona la chitarra Bravino, vediamo se possiamo fare qualcosa Produci? No Lei invece può pubblicare qualcosa? Non lo so Studia le tendenze, registro... pubblica gli aggiornamenti Rispondi ai commenti, scusate devo fare un attimo questa cosa Promoziona il prossimo video e... promuovi i vecchi video Ok, tanto... aspettiamo che lei faccia questa cosa Oh girl, yes! Vai, promuovi un po' Perché mi sa che lei sta per raggiungere in realtà la prima stellina di fama Perché non può farlo? Non può fare granché Ok, allora amore bello, dato che stai per raggiungere la fama Oh che cosa ha fatto? Bellissimo, sta aggiungendo la storia Molto bene, 12 follower e un po' più di fama Allora, lui sta cucinando perché ovviamente c'ha fame Va bene, mangia... scusa l'invasione, non far caso a me Tanto siamo praticamente migliori amici Ma tutto a posto Lui ha fatto il terzo livello Ok, mangia un'insalata giardiniera Da... ah no, la sta mangiando lui Benissimo, scusa, fai un pasto veloce Con cereali Vai, tanto è mattina e va bene Fare un po' di... Ok, i nostri... Ok, scusate, voglio fare una fotina così Oddio, non vomitate, come al solito Io vi faccio sempre un po' vomitare, ragazzi Scusatemi, quando devo fare queste foto Oh che carini Allora, diciamo che parla dei sogni Perché lui vuole diventare un culturista Vorrebbe tantissimo migliorare il suo fisico Perché lui sa di essere un bel ragazzo Magari anche... Chiacchiera con Evelyn Chiacchiera con Evelyn No, amore, devi andare in bagno Lo so che vuoi chiacchierare con Evelyn Eh, no Eh, va bene Potresti andare in bagno Cioè, devi... E lo so che devi andare in bagno Ma mi sa che si è rotto il gabinet Ah no C'è la tizia lì che si fa la doccia in casa nostra Va bene Ah, ma qui c'è una chiacchiera comune Adoro Loro sono amici Loro un po' meno Magari racconto una storia incredibile Dai, così unisci anche la conversazione Oh, guarda un po' Arrivano un po' di... Guardate ragazzi Bellino Per i video Iniziano ad arrivare un po' di... Di soldi In effetti Allora, lui deve andare in bagno, raga Comunque io non vorrei dire Ma io mi sto un po' dimenticando degli eventi Del calendario La vetrina dei talenti In realtà la vorrei utilizzare Come... Per far suonare a Jeremia Magari lo strumento Fatemi sapere voi cosa... Ma questa dorme in casa nostra? No, vabbè Ciaoone Allora, amico bello Va bene Andiamo, viaggiamo Viaggia Viaggia con il nostro migliore amico Nonché cugino Nonché coinquilino Nonché amante No, bugia No, non è amante Per fortuna no Jeremia ti incontrerà lì Andiamo in una bella palestra Voglio vedere cosa abbiamo Mettiamo uno Anzi, metterei pausa Voglio vedere che palestre abbiamo in città Non mi ricordo se ho fatto qualche cambiamento Oppure no Eccoci ragazzi Come al solito Nelle mie storie piove Questa è la palestra di Windenburg La palestra del quartiere portuale Che mi piace un sacco Allora, io direi di andare qui insieme Mentre con lei facciamo socializzare Con magari Oddio, ci sarebbero un po' di persone con cui socializzare Facciamola socializzare con Michelle Pizzatz Che dite? Mentre la nostra Evelyn Si prende cura di se stessa Allora I nostri due beniamini Qui Benjamin E Benjamin No Jeremia e Lorenzo Perché ho detto Benjamin? Oddio, ma c'è una cosa superiore Ah, ok Carino Chi c'è qui? Brent Hacking No Non voglio coppie gay Ragazzi In questo caso Per ora Scusatemi Magari la coppia lesbo Se vi piace Ma per ora coppie gay Non ne voglio Ci ho fatto tutto il The Sims 4 Cani e gatti Allora Sicuramente ci dobbiamo cambiare Esercitati a cantare per la fama No Abiti Cambia abito Mettiti gli abiti sportivi E anche tu Scusami Vai a ca Abiti Cambia abito Mettiti gli abiti Sportivi Oddio Che carini Ok Allora Mentre il nostro Lorenzo Noir Gli facciamo fare un bel allenamento Al nostro Geremia Gli facciamo Martina Lombardi Allenatrice Allora Presentiamoci amichevolmente Con un po' di gente C'è anche il nostro Simone Rouge Ovviamente Lui cosa fa? Allenati amore Perché non puoi Allenati qui allora? Ok Perché ti devi Iniziare Ok Bjorn Presentazione amichevole Lui è molto Molto carino Scusate Io devo fare La foto Di Rito Ok Perché secondo me È molto carina Questa cosa Yes Ci sta Con Diciamo Fai stretching Con Bjorn Presentazione amichevole Con Bjorn Poi Ma sì Presentiamoci a Brent Guarda chi c'è C'è una bella ragazza Sarebbe Michelle Pizzatz Che non è altro Che la nostra Vicina di casa Quindi Direi Che è il caso Di Conoscerla Assolutamente Ok Si sta presentando Lei è flertante Ragazzi Discuti degli interessi Vai qui In realtà Magari Vai qui E Sì Complimento Sincero Approfondiamo Con Michelle Pizzatz Oddio Sì Ma dovevamo Per forza Ma si può Ok Allora Michelle Pizzatz Stica Anthony Francioso No È il nostro fratello Quindi Lui cosa fa Guarda la tv Ma no amore bello Te devi allenare Vai oltre i limiti Ma guardate il nostro fratellone Il fratello di Jeremia E visto che ci troviamo Ragazzi Scusate Complimento Sincero Vai Ma perché vanno tutti là Ok Vogliono parlare tutti Intorno A Bjorn Io vorrei Anche Amichevole Abbraccio Non vediamo Nostro fratello Il nostro fratellone Da tanto tempo Guarda chi c'è C'è una Dina Caliente Io mi presenterei Absolutely Ne mancano Tre di presentazioni Vieni Nina Fatela con noi nel gruppo Tanto ormai siamo 18.500 Giustamente Vieni anche tu Con la nostra Michelle Ci siamo presentati Qui c'è Leonardo Mariani Ragazzi Odiato da tutti I nostri I nostri Protagonisti Lui vuole parlare Racconta una storia buffa Vuole parlare con la nostra Michelle Pizzaz Tesoro bello Di cosa hai bisogno? No Puoi ancora Allenarti Andare oltre I limitui Beh Jeremia con Michelle Pizzaz Ci starebbe da Dio Un bel biondone Con una bella neretta Dico di capelli E poi anche mulattina Quindi ci starebbe tantissimo Spettacola sui vicini Quindi parliamo un po' Anche dei vicini E ovviamente Quando spettacolano Dei vicini Spettacolano Proprio di quello Che abbiamo appena visto Di Mariani Perché sta un po' Sulle bowls Su Leonardo Mariani Sta un po' Sulle bowls A tutti Esalta Sta aumentando Anche Raggiunto il livello 2 Di forma fisica Bravo Lorenzo Noir Ti farò diventare Non dico un personal trainer Ma quasi Fai un'imitazione Ovviamente ragazzi Michelle È tanto bella Qui c'è anche Il nostro fratello Quindi ne approfittiamo Per far conoscere Un po' Di ragazzette Al nostro fratellone Ma Io direi Di andarci A fare Ragazzi Un bel Tuffo Ma io Nuoterei qui Insieme Al nostro Lorenzo Dato che ci troviamo Ragazzuoli Tanto Mancano due ore Di allenamento Così vediamo I nostri Oh Voilà Questa piscina È molto carina Ma lui Ah sta andando A farsi la doccia Ma in realtà Nuota qui insieme Mi piaceva la cosa Intanto lei No Non ancora Non si è Ok Hanno tutti e due Lo stesso costume Ditemi di no No per fortuna No Diciamo che il nostro Geremia Parla al nostro Lorenzo Rallegra E gli dice Ma lo sai Ho appena Conosciuto Una ragazza Michelle Pizzatz Che ho scoperto Essere Diciamo Una nostra vicina Di casa E quindi Secondo me Potrei Provarci con lei Tu cosa ne pensi E lui dice Io mi vado a fare una doccia No lui dice Io mi vado ad allenare Eravamo qui Per il nostro Obiettivo Di Tra noi due Tra noi due Non è sempre corso Buon sangue Ma non è troppo tardi Per stringere Amicizia No Lui Giustamente Gli dice Tesoro bello Oh oh Forse ti devi andare a lavare Per davvero Eravamo qui Per i Cosi Fai Adominali con chi No Per i Per la nostra aspirazione Quindi vai a conoscere Gente Non ti fissare Sulle ragazze Ma lui ovviamente Va a conoscere Questa Bellissima Sembrerebbe Sì più o meno C'ha delle tette un po' scese Però Una bella ragazzuola Una bella figliola Ne mancano due Vai vai Qui c'è Simone Rouge Potremmo Chiedere della sua giornata Lui si va a presentare Alle ragazze In costume da bagno Vai Chiedi della sua giornata Perché comunque Simone fa parte Della nostra vita Dato che è sempre Tra di noi E poi Simone Rouge A quanto sembra Il nostro Jeremy Ha capito Che c'ha un flirt Con Con la nostra Coinquilina Simone E quindi Lui ovviamente Amiche Ehi Ehi Amichevole Eccoci Chi Ecco infatti C'era scritto Altri sim Accoppia con Chiedi di un altro sim Chiedi di un altro sim E gli chiediamo Della nostra Dov'è? Simone Pancakes Vediamo Il nostro Simone Cosa ci dice Cosa ne pensa Della nostra Simone Geremia Allora Lui Lui l'abbiamo Sistemato Lui ha bisogno Di allenarsi Per otto ore Allenamento Tesoro bello Lo so che devi anche mangiare Ma visto che ci troviamo Ti alleni Queste ultime due ore Lui sempre Ben vestito Vai vai Qui c'è anche La nostra Cristina Hours Chiedi della carriera Nel frattempo Schettegola Sui vicini Sfogati E Lamentati dei problemi Sette Vai Ne manca Manca una sola ora Lui si è andato ad allenare Nel frattempo Poi torniamo a casa Oddio No Ma lei non ho capito Se ci sta incoraggiando O se Sì Vai Ce l'abbiamo fatta Con Cos'è Consegui livello 4 Di forma fisica Vai oltre limite I possiedi due attrezzature Sportive Non le possediamo Torniamo A casa Ragazzi Così vediamo un attimo Di occuparci Delle altre due Simmine Anche se sarà Un po' difficile Con loro Eccoci Ragazzi Siamo tornati In realtà Sono le 21 E' un po' tardi Allora Lei dovrebbe Vorrebbe andare A nanna Allora Lei in realtà Dovrebbe fare Due appuntamenti E trovarsi un fidanzato Secondo me Potremmo provarci Nel prossimo Nel prossimo Episodio Lei invece Innanzitutto La facciamo andare In bagno Velocemente Prima che viene Occupato da Altra gente Ok 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 Poi Le facciamo fare La doccia Ok Allora ragazzi Il nostro Geremia Ovviamente Oddio Lei è la madre Giusto? E la zia? No è la zia Ok Geremia Pensa un po' A Michelle E quindi Le invia Un sms Felice E poi Chiacchiera E quindi La chiama Perché ci pensa Ragazzi Ci sta pensando La nostra Michelle Fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Se vi piacerebbe Se li vedete bene Magari insieme Come coppia Io vorrei accoppiare Arrivati a questo punto Della storia Un po' I nostri Simmini Allora Lei In realtà Io vorrei Che pubblicasse Rispondi ai commenti Sì 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 Sono le 11 E come una Favolosa Studia le tendenze Come una favolosa Instagrammer O youtuber Vedete Sta guadagnando Un sacco di follower Consegui livello 4 Di forma fisica No Allora tesoro A te invece Ti metto A videogiocare Gioco una partita Partecipo a un torneo Per novizi Spendi Ventisimo Oddio Non ho letto Allora Abbiamo Cultura Selvadoregna Viaggi Pianoforte Videoblog Flertante Quindi io Direi Che potremmo Fare nulla Sta andando a dormire Favolosamente E allora Non può giocare Perché non gioca? Allora Aspettate Ritorna qui Carriera Cerca un lavoro No Social Potresti controllare No Programma Anche un bel programmatore Gioca una partita A Sim per sempre Saremo Sim Sim per sempre Quello era Ricchi Ma perché non lo fa giocare? Mica ho capito io Allora Proviamo qui E poi capirò Che problemi ci sono Gioca sim per sempre E lui lo fa giocare Va bene ragazzi Allora io direi che con questo episodio Possiamo terminare qui Spero vi siete divertiti Se così mettete un mi piace Se siete nuovi E siete arrivati fino a questo punto Iscrivetevi Per sostenere Il mio canale Ma in generale Ragazzi Io ho i piccoli canali Cerco di sostenerli E quindi spero Lo facciate anche voi Lasciate un commento Perché è molto importante Per noi Piccoli canali Leggere i vostri commenti Rispondere Poi a me piace Un sacco Quando voi commentate Potervi rispondere E avere uno scambio di parole Anche per conoscerci un po' E nulla ragazzi Io spero che appunto Vi siate divertiti Commentate Iscrivetevi Mettete un mi piace Condividete magari questo video Consigliatelo E nulla Vi mando un bacio Al vostro Daniele Danzu E ci vediamo al prossimo episodio Che ovviamente sarà Credo eh Spero di mantenere Le tempistiche Martedì Con un episodio Del gameplay Dedicato a The Sims 4 Nuove stelle E speriamo Esca presto Anche una nuova espansione Così da poterci fare Un nuovo gameplay Quindi niente Vi mando un bacio E ciao a tutti Dal vostro Daniele Danzu